Buongiorno a tutti, guarda lo stadio Taviani, bravori, mi collego qua con il Bomber Pregano e mi hanno detto qua ragazzi che lo Zena se non sbaglio si è salvato, ma attenzione sentiamo il Bomber cosa da dirci? Grazie ai risultati di oggi e alla nostra vittoria non abbiamo neanche da fare altre partite, ci siamo salvati mortamente quindi grande prestazione da lo Zena. Quindi lei mi sta dicendo che lo Zena l'anno prossimo riparca i nastri della seconda C categoria, non so se sarà lo C perché vorremmo magari disputare quello del sabato ma sicuramente sarebbe un secondo. L'avrà ricercato la formazione della Zena in porta Zamboni di cosa strana, è un rosso, è una vittoria che cazzo c'era, centro campo Paolino, in avanti il Bomber Pregano e poi è entrato Monticone, è stata una vittoria incredibile. E quanto abbiamo vinto? Oggi grande prestazione della squadra, 5 a 1 e tutti a casa, grazie anche alla benevolenza del braccio che è venuto qua a scarico perché era già salvo, quindi è andato tutto bene. E con la forza Zena, siamo salvi, grazie, buona, bella, va ad Altamiani, dai Zena, vai!